Ogni tre giorni in Italia una donna muore perché è vittima di una violenza. I dati del Ministero dell'Interno in questo 2022 fino al 20 novembre parlano di 273 omicidi registrati con 104 vittime donne di cui 88 uccise in ambito familiare affettivo e di queste 52 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Sono cifre terribili. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha aperto la seduta del Consiglio aperto stavolta in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questo è un tema che va affrontato con tutta la sua gravità e non solo con una giornata e un fiocco. Non basta un messaggio una volta all'anno. Dobbiamo acquisire maggiore consapevolezza di un problema reale che è tra di noi. A dichiararlo il Presidente della Regione Alberto Cirio che è intervenuto alla seduta aperta. I dati registrano un aumento di denunce e questo è positivo. Ma leggere dati che le violenze sono per la maggior parte in ambito familiare è veramente qualcosa che ci deve far riflettere. Questa non è soltanto violenza fisica. Oggi è bene interrogarci tutti non dimenticando che accanto alle violenze fisiche ci sono quelle psicologiche che sono ancora peggiori, sudore che fanno sentire la vittima colpevole. E ancora, ha aggiunto Cirio, ringrazio Sergio Chiamparino per aver adottato un piano triennale a supporto dei centri antiviolenza e delle case rifugio che ora sarà nostro impegno proseguire e rafforzare perché l'idea che qualcuno possa sentirsi superiore a qualcun altro e sulla base di questo esercitare violenza fisica e psicologica è abominevole.